Questa bella piazza è nel centro del comune di Sarzana, oggi 10 febbraio, giorno che ho dedicato al ricordo delle foibe e dell'esodo. Questa mattina in Consiglio Comunale, in una sala gremita da centinaia di persone piena di giovani, di studenti, con il va pensiero, con l'inno di Mameli, con racconti dell'esodo sono intervenuto, ho raccontato la storia della mia famiglia materna dell'esodo, mi sono commosso, è stato molto toccante, è stato veramente molto toccante e poi dopo vi farò vedere in questi giorni il filmato, il video di questo bel evento. E oggi pomeriggio qui a Sarzana, proprio in quel palazzo dietro alle mie spalle, anche qui nel municipio, come primo comune, unico comune d'Italia verrà scoperta una targa all'interno della sala giunta. La sala giunta del comune di Sarzana, che è stato storicamente un comune rosso, sarà dedicato al giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano, un fatto veramente storico a cui ho l'onore di essere stato invitato e anche a intervenire. È l'unico comune d'Italia.